ciao amici benvenuti in questa nuova puntata io sono alessio e oggi voglio darti alcuni suggerimenti su come puoi gestire al meglio la color con adobe lightroom per le tue foto di paesaggio tuttavia i concetti che ti andrò a suggerire potrai applicarli anche in altre tipologie di foto oppure anche in altri software a parte qualche funzione specifica che troviamo solo su adobe lightroom prima di iniziare però ti chiedo di andare qui sotto e cliccare sul pulsantino per iscriverti al canale a te non costa nulla ma per me è molto importante e andrò anche a realizzare molti nuovi contenuti di questo tipo se vedo che piacciono le persone che mi seguono ad ogni modo da dove possiamo iniziare quando parliamo di gestione del colore delle immagini il colore va ad influenzare come viene percepita la foto dall'osservatore possiamo decidere di dare una sensazione di immagine un po più calda quindi coinvolgente piacevole oppure puoi dare una sensazione un po più fredda che va a pari passo con la stagionalità se fai una foto in condizioni di neve in una zona fredda ghiacciata puoi lavorare con il bilanciamento del bianco per dare questa dominante un po più fredda che fa percepire appunto all'osservatore questa sensazione e sarà questo il focus del video ovvero voglio darti dei suggerimenti su come puoi migliorare la gestione della color nelle tue immagini di paesaggio con adobe lightroom tenendo però anche in considerazione che non tutti cercano uno sviluppo artistico enfatizzando i colori dell'immagine ma c'è anche chi cerca di neutralizzare l'immagine anzi neutralizzare l'immagine prima di decidere che strada intraprendere più artistica o più documentale sarebbe molto importante potrebbe essere molto utile e il primo degli strumenti che ci permette di agire in questo senso è il bilanciamento del bianco ma c'è una cosa da dire sul bilanciamento del bianco se andare agli estremi è abbastanza facile vuoi enfatizzare i colori caldi o i colori freddi è semplice la cosa difficile è trovare quella via di mezzo oppure quell'intervento che ti permette di neutralizzare delle dominanti presenti nella stessa ecco quella lì è la cosa difficile tuttavia ci sono delle tecniche che adesso ti faccio vedere che puoi adottare quindi andiamo sul desktop del mio computer eccomi qui su adobe lightroom ho già aperto un'immagine sono nel modo lo sviluppo e lo strumento bilanciamento del bianco lo trovo tra gli strumenti di base qui vedi tutta la sequenza di strumenti che potrebbe essere diversa da quella che hai tu nel tuo lightroom questo perché ti sei perso il video dove ti spiego come puoi personalizzare questa colonna degli strumenti vai a vedertelo ti metto qui il link sotto nelle note dell'episodio ad ogni modo andiamo nel gruppo strumenti di base e a me interessa il bilanciamento del bianco posso lavorare con gli slider temperatura e tinta per fare degli interventi un po' più consistenti per dare delle dominanti decise però la cosa diventa più complessa se devo fare degli interventi un po' più neutri posso utilizzare i predefiniti andando qui trovo un menu a tendina posso scegliere su originale come l'ha registrato la fotocamera oppure in automatico lascio che sia lightroom a gestire il bilanciamento del bianco posso scegliere un predefinito tipo qui è nuvoloso vedi che cambiano i valori di temperatura e tinta ombreggiatura ma ancora una volta non è un intervento tecnico posso utilizzare il campionatore cliccando qui vado a scegliere un'area che secondo me dovrebbe essere neutra dal punto di vista del bilanciamento del bianco tipo qui e clicco in questo modo viene bilanciato il bianco tuttavia vedi qui ad esempio da una dominante molto calda è corretta è sbagliata è un po' difficile da capire a volte però potresti trovarti con delle immagini che non hanno delle aree adatte per fare la campionatura del bilanciamento del bianco oppure è proprio adobe lightroom che non riesce a campionare una determinata area sulla quale vai a cliccare per tutta una serie di motivi che non sto qui a spiegarti in questo caso puoi agire con un metodo anzi con due tecniche adesso ti faccio vedere per correggere ed intervenire in questo senso ti faccio vedere la prima tecnica che puoi adottare vado a ripristinare l'immagine alle condizioni iniziali e vado qui tra gli strumenti di base e abbasso l'esposizione perché mi interessa vedere bene la parte destra dell'istogramma e noti anche tu che il canale del blu è più spostato verso destra prevale sugli altri e questo significa che mi dà una dominante blu sulle luci quello che vado a fare io è gestire con lo slider della temperatura questo aspetto e lo scopo è allineare tutti e tre i canali quindi vedi lo porto verso destra la temperatura aumenta fin quando ecco sono praticamente tutti e tre allineati qui nel punto finale se ci sono delle dominanti magenta o viola posso agire anche in questo senso vedi per eliminare una o l'altra quindi posso agire con la tinta per fare queste micro correzioni una volta fatto questo faccio doppio clic su esposizione per riportarla alle condizioni normali come era l'immagine all'inizio era così e adesso è così vedi come il bilanciamento del bianco è stato corretto questo qui il bilanciamento tecnico tuttavia esiste anche un altro modo andiamo a ripristinare l'immagine nuovamente alle condizioni iniziali e adesso vado innanzitutto a cliccare qui sul valore della temperatura cliccando lì potrò agire manualmente impostando i valori dopodiché premo il tasto w che starebbe per white balance in modo da attivare lo strumento di campionatura ma non vado a cliccare l'utilizzo solo come riferimento infatti vedi che su questa piccola schermata che compare trovi dei valori sotto r g e b r sta per red canale del rosso g green canale del verde e b sta per blu canale del blu e vedi che c'è 80 82 91 e 7 in sostanza sono sbilanciati il blu a un valore più alto e quindi da questa dominante blu quello che faccio io è trovare una zona che posso ritenere una zona che voglio portare i valori neutri prendiamo ad esempio questa zona qui vediamo che ho 73 sul rosso 74 e 8 sul green sul verde e 85 6 sul blu quindi il blu è troppo alto cosa faccio con le freccette nella tastiera premo su o giù e vedrai che il valore della temperatura cambia lì sulla colonna di destra e appunto con le freccette io vado ad aumentare premo verso su fin tanto che cerco di allineare i tre valori dei canali quindi vado su e vediamo di allinearli bene ok sono arrivato a questo punto vedi che r per red è 77.7 green a 77.8 e blu a 77.9 la virgola non mi interessa quindi sostanzialmente ho portato tutti e tre i valori alle stesse condizioni andiamo a vedere prima dopo ho creato in sostanza quel bilanciamento del bianco tecnico lo portate tutti allo stesso valore però posso anche agire in un altro modo posso andare qui e fare una verifica tipo in questa zona vediamo qui vedo che ad esempio il blu è un po troppo basso rispetto agli altri due quindi devo trovare una via di mezzo anche in questo caso torno a cliccare sul valore della temperatura torno col campionatore qui ad esempio vediamo prendo come riferimento vedo che sono 75 75 73 il blu è un po basso quindi vado a cambiare un pochino con la freccetta verso giù e vedrai che il blu aumenta gli altri diminuiscono fin tanto che trovo anche qui una via di mezzo che può star bene 75 ecco qui potrebbe andar bene eccolo qui un 74 8 75 75 e 2 sui canali rgb ho trovato praticamente una media una quadra giro col campionatore capisco quali interventi fare e vediamo per l'appunto prima dopo ho fatto il bilanciamento del bianco tecnico quest'ultime due tecniche che ti ho mostrato ti aiutano a raggiungere quello che in gergo chiamiamo bilanciamento del bianco tecnico che può essere un'ottima base di partenza per poi decidere che strada intraprendere una strada più artistica enfatizzando i colori una strada più conservativa cercando di rappresentare la realtà della situazione in quel momento se devi fare delle foto documentali una volta che hai fatto il bilanciamento del bianco io ti consiglio di salvare questa situazione per farlo ti basta andare qui sull'istantanea la colonna di sinistra snapshot cliccare su più ti proporrà la data e l'ora noi andiamo a dare un nome bilanciamento bianco e clicco su crea in questo modo viene creata questa istantanea snapshot che ti torna utile quando ad esempio fai un ripristina dell'immagine che in sostanza la riporti a zero cliccando qui ritorni a quelle condizioni con i valori che avevi impostato e può essere comoda in base a quello che andrai a fare quindi se stai ancora sperimentando per capire che sviluppo intraprendere su questa immagine è utile creare degli istantanei per salvarsi delle posizioni degli stati di sviluppo il secondo consiglio che ti vado a dare è l'utilizzo dei profili colore la maggior parte di voi che utilizza lightroom probabilmente utilizzerà il profilo colore standard impostato dagli sviluppatori tuttavia adobe lightroom mette a disposizione vari profili colore certi sono anche disponibili direttamente dalla fotocamera attenzione questi profili colore non vanno ad influenzare lo sviluppo che tu hai fatto nell'immagine ovvero non vanno a cambiare il bilanciamento del bianco l'esposizione eccetera ma sono soltanto dei profili che danno le istruzioni adobe lightroom su come leggere ed interpretare i dati nativi del file raw quindi non vanno ad influenzare quello che hai già fatto col tuo editing i profili colore li trovo sempre nel modulo strumenti di base vedi profilo adobe colori come nua tendina posso sceglierne altri ma io ti consiglio di andare qui nell'icconcina che ti permette di accedere al browser profili cliccando lì troverai varie tipologie divisi per categoria colore bianco e nero andando su tutto vedi che sono anche raggruppati in varie modalità abbiamo i preferiti l'adobe raw colori come da fotocamera qui ho i profili quelli che mi fornisce direttamente il produttore della mia fotocamera quindi varia anche da brand a brand per mantenere uno standard noi andiamo a vedere gli adobe raw che sono quelli che utilizzo solitamente anch'io quindi vado ad espandere adobe raw e vedi che qui ce ne sono vari all'interno io di pro definito ho l'adobe colori potreste avere questo oppure l'adobe standard anche adobe standard vedi da un'interpretazione leggermente diversa del file raw ma sostanzialmente è molto simile leggermente più contrastato l'adobe colori abbiamo adobe monocromatico che ti dà una base di partenza per la gestione del bianco e nero abbiamo l'adobe intenso qui abbiamo un aumento del contrasto e saturazione dei colori rispetto all'adobe colori o all'adobe standard vedi proprio c'è un cambiamento notevole abbiamo l'adobe paesaggio che è un profilo un po predisposto già per la gestione dell'immagine di paesaggio va ad enfatizzare un po i colori ma dannomi comunque dei margini di intervento abbiamo adobe ritratto che è un profilo che ti permette di avere una corretta o comunque migliore gestione dell'incarnato colore della pelle e abbiamo l'ho lasciato per ultimo l'adobe neutro che come puoi notare rispetto all'adobe colori che quello predefinito sul mio adobe lightroom è estremamente più piatto meno contrastato ed infatti è un profilo che è adatto se hai delle immagini con un'ampia gamma dinamica come nel caso appunto di questa immagine lo vedo anche dall'istogramma e può essere utile se magari hai intenzione di fare un editing molto spinto molto artistico sull'immagine quindi parti da un adobe neutro e spesso io utilizzo questo profilo tuttavia nel caso specifico di oggi vado ad utilizzare l'adobe paesaggio che è un profilo che già mi predispone l'immagine per una gestione paesaggistica quindi vedi che i colori sono già buoni e comunque un margine molto elevato di gamma dinamica ed è ideale per quello che voglio fare io mi risparmio un po di tempo quindi adobe paesaggio e clicco su chiudi come puoi notare il bilanciamento del bianco non è cambiato i parametri che io avevo impostato prima sono rimasti gli stessi e adesso uno strumento che la maggior parte di voi ho utilizzato utilizza in altri contesti per la gestione del contrasto dell'esposizione ma in realtà può essere gestita anche per il colore sto parlando delle curve o curva di viraggio questo strumento può essere utilizzato su singolo canale rgb per gestire per appunto le dominanti prendo questa immagine sulla quale ho fatto proprio un intervento di base che consiste nell'aumentare un po le ombre per prendere un po di dettaglio in questa zona ed applicare il profilo adobe paesaggio posso quindi allo strumento curva di viraggio qui posso gestire i singoli canale colore oltre che il canale principale che abbiamo sempre utilizzato e quindi vado ad esempio sul canale del rosso e vedi che lo rappresenta verso su una dominante rossa arancione magenta qui verso il basso una dominante ciano blu infatti se io clicco qui al centro e porto verso giù vedi che prende questa dominante oppure l'atto opposto questa dominante un po più magenta cosa faccio io aumento leggermente devo fare proprio degli interventi minimi perché lo strumento curve è molto potente e come vedi già così ho dato una dominante prima dopo prima dopo vedi questa leggera dominante e se vado sul canale del blu e faccio la stessa cosa abbasso questa volta un pochino quindi vado a dare un intervento opposto sempre molto limitato devo stare attento andiamo a vedere prima dopo vedi che si sommano andiamo sul canale del verde e abbiamo qui verde verso su ma abbiamo immaginta verso giù e nelle fotografie di paesaggio nell'immagine di paesaggio al tramonto ecco che dare una dominante leggermente magenta in questo modo beh ci sta decisamente bene guarda prima dopo vedi come l'intervento è molto importante nonostante abbia utilizzato veramente delle micro modifiche tuttavia possiamo agire anche in un altro modo vado a ripristinare le curve posso intervenire anche in modo selettivo perché qui posso gestire sia le luci che le ombre ad esempio voglio fare questo intervento solo sulle zone più chiare bene vado sul canale del rosso metto un punto di ancoraggio qui al centro vado qui sulle zone più chiare e le aumento un pochino quindi ho dato la dominante un po più rossa solo sulle zone più chiare vediamo prima dopo si vede leggermente vado qui sul canale del blu anche qui do un punto di ancoraggio faccio la stessa cosa però solo sulle luci abbasso un pochino e questo intervento in sostanza va a colpire solo le luci prima dopo prima dopo verde faccio la stessa cosa appunto di ancoraggio e dopo di magenta in quella zona posso sempre eventualmente spostare questi punti per espandere l'area di intervento un po più in altre zone se lo desidero posso farlo appunto in questo modo e vedi che ho fatto un intervento simile al precedente ma in questo caso va a colpire prevalentemente le zone più chiare dell'immagine le zone in ombra rimangono sostanzialmente neutre non subiscono un grande intervento dal punto di vista delle dominanti attraverso le curve perché ho agito in modo selettivo in determinate aree specifiche lo so lo strumento curve magari ti ha un po lasciato perplesso perplessa perché lo vedi un po complesso difficile da utilizzare interventi minimi ma ti dico già una cosa non è che devi utilizzare tutte le tecniche che ti sto suggerendo o applicarle in tutte le immagini puoi anche decidere di scegliere solo alcune delle tecniche suggerimenti che ti vado a dare quelli con i quali ti trovi meglio quelli che ti danno più soddisfazione ad esempio il prossimo strumento calibrazione uno strumento che mi sembra disponibile solo su adobe lightroom ma è uno strumento che tutti praticamente lasciano sempre ai parametri di base in realtà adesso ti faccio vedere cosa puoi fare con questo strumento e capirai che se utilizzato con intelligenza può veramente aprirti un mondo per quanto riguarda l'editing del colore delle tue immagini di paesaggio vediamo di cosa si tratta prendo questa immagine che cade a puntino per quello che voglio fare voglio dargli un'atmosfera molto più autunnale questa immagine già stata sistemata con degli interventi di base guarda all'inizio era così bilanciamento bianco totalmente errato lo sistemato vado anche a cambiare il profilo metto adobe paesaggio vado ad enfatizzare un po i colori e prepararla per l'intervento di paesaggio e voglio fare un intervento decisamente aggressivo per enfatizzare questa atmosfera autunnale e lo faccio attraverso lo strumento calibrazione quindi vado su calibrazione e qui troviamo rosso primario verde primario blu primario e sono tutti interventi che mi permettono di leggere sulla tonalità e saturazione sul singolo canale e qui entra in gioco una cosa della quale spesso ci dimentichiamo ovvero che ogni singolo pixel della nostra immagine è composto da tre elementi specifici tre canali colore r g e b rosso verde e blu e tramite calibrazione noi possiamo gestire sia la tonalità sia la saturazione di ogni singolo componente all'interno del pixel e quindi possiamo avere delle possibilità di editing sul colore decisamente avanzate ed infatti ad esempio su questa immagine cosa faccio vado sul rosso primario vado sullo slide del saturazione e guarda cosa faccio aumento il valore cosa è successo aumenta la saturazione ma è abbastanza ovvio su questa immagine la maggior parte dei pixel sono pixel che hanno una dominante rossa quindi hanno una prevalenza del canale del rosso e quindi aumentando la saturazione del rosso primario del canale del rosso l'impatto visivo sarà un aumento della saturazione ma attenzione a cosa succede quando io vado ad agire porto a zero saturazione sul rosso primario vado ad agire sulla saturazione del blu primario cosa succederà secondo voi aumento il valore aumenta ancora la saturazione ma meno di prima questo succede perché aumento si la saturazione ma comunque all'interno di ogni singolo pixel c'è una piccola quantità di blu e quindi aumentare della saturazione del blu comporta anche una percezione di aumento della saturazione sugli altri colori e quindi c'è questo effetto ovviamente la prevalenza l'incidenza maggiore è sui blu tant'è che se io aumento questo valore guarda qui la cascata come adesso prende questa dominante blu perché aveva prevalenza di pixel blu e quindi aumentando nella saturazione si vede molto di più all'opposto porto la saturazione a meno 100 sui blu vedi che cara la saturazione complessiva quindi è stato desaturato il canale del blu sui singoli pixel però comunque rimangono gli altri canali che danno il loro apporto nel colore però comunque sono tutti e tre i canali che lavorano tra loro ma la cosa molto importante che possiamo fare è aumentare e gestire la saturazione come primo intervento che è una saturazione che funziona molto meglio dello strumento saturazione che abbiamo qui sugli strumenti di base o vividezza ma andremo a vederli più tardi ma un'altra cosa che io voglio fare ed è appunto lo scopo che ho in mente quello di fare un intervento aggressivo per enfatizzare l'effetto l'atmosfera autunno è quella di lavorare sulla sullo slider della tonalità quindi porto tutti i valori a quelli predefiniti eccoli qui e attenzione cosa vado a fare prima faccio un intervento estremo prendo blu primario lo porto a meno 100 eccolo qui dopodiché e guarda che dominante ha preso vado sul rosso primario e lo porto un valore pari a 40 50 guarda cosa succede ovviamente questo è un intervento estremo ma serve per farti capire cosa è successo ho cambiato le tonalità cambiando decisamente la tonalità sui blu e sul rosso primario un pochino guarda com'è cambiata atmosfera lo vediamo specialmente in quest'area qui qui sembra veramente luce autunnale sul resto no è un po più innaturale tuttavia noi possiamo fare anche degli interventi molto più blandi però dando questa atmosfera ad esempio sul blu primario non lo porto a meno 100 magari lo porto a un valore più basso meno 50 e la tonalità del rosso primario invece di portarlo a più 50 a 40 lo porto un valore un po' inferiore un 20 circa la metà quindi ed ecco che qui l'intervento prima dopo vedi come gli ho dato questa atmosfera molto più autunnale dopo di che vado anche ad agire con la saturazione del singolo canale rosso ed ecco che qui la mia ricetta è riuscita dare un'atmosfera molto più autunnale lavorando su calibrazione quindi gestendo i tre canali colore sui singoli pixel e questo però non va considerato come un intervento fine a se stesso ma va considerato assieme ad altri interventi quindi vari interventi da parti differenti per la gestione della color delle tue immagini di paesaggio può farti veramente fare un salto in più dal punto di vista qualitativo e di resa dell'immagine finale chiusa la parentesi calibrazione andiamo a vedere color grading nome dello strumento beh è abbastanza chiaro serve per appunto dare delle dominanti alla nostra immagine questo strumento all'inizio può sembrare complesso ma in realtà è veramente molto semplice e invece di visualizzarlo nella modalità multipla con ombre mezzi toni e luci assieme andiamo a vederlo per singole aree iniziamo dalle ombre cliccando qui vediamo solo la gestione delle dominanti nelle ombre abbiamo questa ruota di colore dove io posso impostare una dominante e lo scopo è proprio quello scelgo la dominante che voglio dare sulle zone di ombra e come funziona questo strumento più mi allontano dal centro più vado verso l'esterno più intenso intensa sarà la dominante che io vado a dare ed ovviamente in base a dove anche mi posiziono avrò una dominante magenta piuttosto che verde che blu eccetera quindi questa è la logica e si può modificare in qualsiasi momento ad esempio qui su questa immagine io voglio dare delle dominanti leggermente arancio sulle zone un po più in ombra vedi che anche qui gli interventi sono minimi dopo posso modificarli e decidere se voglio un intervento più intenso o meno intenso e posso vedere come incide vediamo prima dopo intervento minimo ma che è sufficiente per creare una leggera dominante sulle zone d'ombra posso anche visualizzare prima o dopo il singolo la singola area di intervento in questo caso sulle ombre qui sotto abbiamo questo slider luminanza questo slider luminanza va ad incidere appunto sulla luminosità di cosa delle ombre quindi posso schierire le ombre oscurirle un po come quello che succede tra gli strumenti di base dove abbiamo ombre e bianchi luci e neri in realtà è un po diverso funziona in un modo leggermente diverso e viene utilizzato prevalentemente non per schiarire ma quanto piuttosto per scurire per dare un po di contrasto alla nostra scena io la lascio impostata a zero mi sposto adesso sull'area luci e anche qui vado a dare una dominante posso scegliere esattamente come prima delle dominanti adesso io appositamente gli do una dominante un po più blu astra perché voglio farti vedere una cosa nel frattempo anche qui vedi luci puoi schiarire oscurire ecco che nelle luci vale esattamente l'opposto invece che scurire da un effetto migliore se vai a schiarire quindi aumentare un po la luminosità aumenta il contrasto percepito ma adesso che io ho applicato sulle luci una dominante blu e sulle ombre una dominante un po più arancio e ho lasciato stare i mezzitoni ma funziona allo stesso modo non volevo semplicemente complicarti la storia andiamo a vedere gli altri due slider disponibili fusione e bilanciamento che sono degli slider che sono identici su ogni area di intervento quindi quando tu fai una modifica su uno si ripercuote anche sull'altro non è che ogni singola area ha il suo fusione bilanciamento ad ogni modo andiamo qui su ombre o su luce indifferente e cosa facciamo andiamo su fusione possiamo decidere di portarla a 0 o a 100 cosa cambia cambia la fusione tra le due aree che io ho realizzato una dominante più rossa arancio sulle ombre e più blu sulle luci questo qui determina quanto deve essere netta questa fusione tra le due aree valore 100 un passaggio netto infatti vedi che è molto bruttina anche da vedere portata al minimo è una fusione massima quindi quasi neanche si nota l'intervento vedi prima dopo quasi nemmeno si nota lo lasciamo in questo caso sempre al valore 50 per definito la metà un 50 per cento poi c'è il bilanciamento e questo è molto utile perché noi abbiamo dato una dominante rossa alle ombre e blu alle luci però possiamo voler impostare una dominante che prevalga sull'altra per capirci quindi col bilanciamento faccio proprio questo vedi che cliccando su questo slider lo porto valore massimo diventa blu perché ho dato la prevalenza alle luci la dominante delle luci prevale su tutto se vado al contrario ho la dominante delle ombre che prevale su tutto e quindi di default è impostata a valore zero ma in realtà io posso dire ok ho fatto gli interventi però mi piace mi piacerebbe dargli più una dominante più calda allora vado verso il bilanciamento in negativo quindi do più spazio alla dominante delle ombre e questo fa sì che le ombre siano più presenti nella dominante rossa rispetto alla dominante blu delle luci prima dopo questo è un intervento molto potente che abbiamo a disposizione per gestire la color e creare appunto delle dominanti sulle nostre immagini abbiamo anche un'ultima possibilità il globale che appunto mi permette di dare alla fine quando ho regolato le mie impostazioni specifiche per le tre aree ombre luce toni medi posso anche dare una dominante globale che va può essere comoda se magari non hai voglia di fare degli interventi specifici ma interviene appunto in modo globale su tutta la nostra scena color reading uno strumento preso pari pari dai software di editing video dove appunto ci sono queste tre si chiamano ruote dei colori che ti permettono di gestire le dominanti sulle tre aree specifiche ombre luci e mezzi toni prima di vedere l'ultimo strumento torno sugli strumenti di base perché voglio dare un chiarimento sulla funzione vividezza e saturazione prendendo questa immagine quindi cosa faccio vado innanzitutto ad azzerare i due slide vividezza e saturazione qual è la differenza tra questi due strumenti beh hanno entrambi lo scopo di aumentare l'intensità dei colori percepita ma vediamo la differenza tra saturazione che agendo con lo slider portandolo al massimo puoi notare come tutti i colori subiscono un aumento di intensità tuttavia se faccio la stessa cosa con vividezza vedi che sempre aumenta l'intensità dei colori ma aumenta in modo diverso si nota forse di più lavorando al contrario se prendo saturazione e lo porto a valore meno 100 vedi che l'immagine diventa monocromatica se invece io con vividezza lo porto a meno 100 l'immagine non è del tutto monocromatica lo puoi notare molto bene qui sulle foglie sui verdi vedi che c'è ancora un po di tinta su questi elementi perché funzionano in modo diverso per farla in modo semplice possiamo dire che saturazione quando tu vai ad aumentare questo valore aumenta l'intensità di tutti i colori in modo uguale quindi non ha una prevalenza uno piuttosto che un altro mentre se io faccio la stessa cosa con vividezza aumento questo valore aumenta l'intensità dei colori che sono in principio meno intensi e va a saturare meno i colori che già presentano una saturazione più elevata questo qui è l'aspetto pratico di quello che succede quando vai a utilizzare vividezza piuttosto che saturazione dal punto di vista tecnico invece semplicemente vividezza va ad agire sulle tonalità medie ecco qui il concetto spiegato in modo completo ad ogni modo lato pratico come funziona funziona che se noi dobbiamo saturare leggermente rendere i colori di questa scena un po più intensi solitamente conviene utilizzare lo strumento vividezza perché tenderà appunto a saturare dal punto di vista percettivo i colori che inizialmente sono meno saturi preservando la saturazione già esistente dei colori che già presentano un'intensità piuttosto marcata è l'ultimo strumento che ti posso consigliare il mixer colori tra l'altro rinnovato moltissimo da adobe con l'ultima opzione aggiunta te ne ho già parlato ma andiamo a vedere nello specifico come può tornarti utile per la gestione del colore nelle tue immagini andiamo quindi a prendere mixer colori vado ad espandere questo gruppo strumenti e ti faccio subito notare che ci sono due schede mixer che contiene tutti gli strumenti diciamo vecchi di adobe lightroom e colore punti che è il nuovo strumento introdotto con gli ultimi aggiornamenti apportati ma iniziamo con il metodo più semplice quello vecchio mixer qui abbiamo la possibilità di scegliere tre aree tonalità saturazione e luminanza e su queste tre aree gestire appunto la tonalità dei rossi arancioni gialli verdi azzurro blu viola magenta e via dicendo sia sulla saturazione e luminanza sono diciamo dei canali colore che hanno definito gli sviluppatori del software mettiamo su tutto in modo da vedere tutte e tre le aree di intervento contemporaneamente e prendiamo ad esempio la saturazione voglio intensificare ad esempio determinati colori il rosso delle foglie qui delle autunnali perché voglio dargli un'atmosfera un po più autunnale potrei andare sui rossi aumento questo valore e noti come le foglie vediamo prima o dopo prima dopo come le foglie sono sono aumentate nella saturazione ovviamente ci saranno anche arancioni quindi posso aumentare l'arancio solo di rosso e l'arancio vedi che prima dopo vedi come è aumentata si intensificata la saturazione di solo quelle foglioline anche qui in fondo veramente un intervento molto specifico vado a rimpostare tutto perché in realtà posso anche agire in modo molto più preciso meglio automatizzato attraverso questo campionatore cliccando lì vado qui sopra il mouse diventa un campionatore io campiono qualcosa e automaticamente adobe lightroom mi andrà a modificare la saturazione in questo caso di quei colori specifici vado qui aumento vado verso su con il mouse vedi che aumenta la saturazione ma guarda cos'è cambiato rosso più 64 arancione più 41 ci sono più componenti rosse che arancioni quindi adobe lightroom aumenta in modo più equilibrato e posso far questo intervento magari sui colori più arancio vado sui verdi e tolgo ma magari un po di saturazione sui verdi perché non voglio che vada ad influenzare un po troppo la scena posso fare la stessa cosa per la luminanza quindi ad esempio i rossi e gli arancioni voglio aumentarne la luminosità vedi vado verso su verso su anche questi e aumenta la luminosità guarda come aumenta l'arancio oppure come aumenta la luminosità dei singoli colori che io vado a selezionare ci sono degli azzurro dei blu ecco qui vedi ce ne sono posso aumentare la luminosità ad esempio della cascata perché ha una dominante blu al suo interno posso gestirne anche la saturazione quindi voglio togliere la dominante blu della cascata la porto verso valore negativo vedi come scompare il blu dalla mia scena diventa anche più carina anche l'azzurro magari diventa molto più carina i verdi magari ritorno a riportare dei valori più normali ho eliminato delle dominanti posso anche eliminare dominanti magenta quindi ho un controllo completo per quanto riguarda i colori ma la cosa bella è anche la tonalità la tonalità è una serie di interventi molto aggressivi da stare attenti quando facciamo gli interventi perché cambia proprio l'estetica della nostra immagine ad esempio su questa immagine io voglio enfatizzare i colori autunnali posso lavorare sulla tonalità del rosso dell'arancione e vedi che andando da un lato dall'altro guarda le foglie specialmente qui sotto come cambiano la tonalità più gialle o più arancio fino ad esagerare però posso ad esempio lavorare un pochino e dargli più la tonalità arancio alla nostra scena o più rossastra vedi piuttosto che verde posso fare questa tipologia di interventi anche qui posso utilizzare il campionatore vado qui sopra e mi muovo con la tonalità per dare delle tonalità alle nostre le nostre foglioline vedi qui adesso magari ho esagerato sono troppo viola magenta ma insomma il concetto è quello posso agire sulla tonalità posso farlo anche sui verdi verdi più brillanti o più verso l'arancio quindi un po più secche un po più appunto che richiamano l'autunno vedi posso fare proprio questo tipo di interventi sulla mia scena per avere appunto guarda prima dopo decisamente un cambiamento della mia scena e come ti ho già accennato va tutto mixato anche con altri interventi che potrei fare tipo bilanciamento del bianco che abbiamo già visto come abbiamo già visto anche la calibrazione andando ad agire sulla saturazione dei singoli canali per dare appunto l'atmosfera che ho in mente ma torniamo su mixer colori vado a ripristinare tutti i valori che ho fatto con gli interventi sul mixer e mi sposto su colore punti cliccando su colore punti il funzionamento è leggermente diverso vado anche ad eliminare tutti gli interventi che ho fatto prima sulla calibrazione riportando i valori originali in modo da partire da un'immagine diciamo piuttosto standard quindi mixer colori colore punti qui non posso far nulla se prima non campiono qualcosa e infatti il concetto è questo quindi prendo il campionatore vado sopra qui e devo campionare qualcosina nel mio caso voglio campionare le foglie per creare appunto quell'effetto più tunnale clicco lì ed ecco cosa succede Adobe Lightroom mi campiona quel colore specifico e qui mi da tutti gli strumenti che sono gli stessi che avevo prima però molto più avanzati ad esempio qui posso aumentare la saturazione di cui aumento la saturazione di quel singolo colore che ho campionato la luminosità quindi tutti gli strumenti qui messi a disposizione e anche ovviamente la tonalità ci posso cambiare la tonalità e qui dopo ho tutta veramente una serie di interventi molto avanzati come l'intervallo posso essere molto più preciso rispetto alla campionatura posso restringere la tonalità lo vedi qui rispetto a dove avevo campionato che è il puntino nero posso restringere il livello di saturazione posso restringere il livello di luminanza posso essere molto più preciso con gli interventi qui ho l'intervallo posso decidere se essere più preciso o più abbondante quindi gli interventi che vado a fare con scostamento tonalità saturazione e luminosità andando a colpire un po' tutte le zone più vicine qui posso visualizzare addirittura intervalli questo è uno strumento molto potente perché mi permette di vedere esattamente dove vado a colpire e qui torna comodo appunto l'intervallo che mi fa capire come un intervallo minimo significa che l'intervento più limitato dei punti specifici molto più ampio è molto più soft si applica anche agli elementi che si avvicinano a questi valori quindi molto più bello da vedere diciamo ad ogni modo ho campionato un colore ma il vantaggio è che posso campionare anche un altro colore campioniamo i verdi vedi qui è comparso il verde e potrei dire ok per i verdi riduci l'intervallo quindi sta limitato veramente ai verdi e togli magari saturazione ai verdi eccola qui o cambagli la tonalità a portarla più verso il giallino vedi che è uno strumento molto più potente rispetto a mixer che avevamo prima ecco qui posso vedere in modo chiaro dove vado ad intervenire eccolo qui ho aumentato la saturazione per capire bene quali sono gli elementi che io ho campionato sono quelli l'intervallo tonalità più ampio più ristretto vedi posso ampliare un po di più anche spostarlo un po il margine di intervento di questo colore che ho campionato ovviamente qui a basso la saturazione non la volevo così alta merita un approfondimento colore punti ma dedicherò magari una lezione specifica e con questo colore punti termino il video se vuoi un approfondimento su colore punti e in genere su mixer colori per la gestione della color delle tue immagini fammelo sapere andando qui sotto nei commenti una cosa alla quale tengo precisare è che tutti questi suggerimenti che io ti ho dato non devi farli ed applicarli su ogni immagine ma devi individuare quegli interventi con i quali ti trovi più a tuo agio con quali ti trovi meglio con quali riesci a realizzare meglio il risultato che hai in mente insomma devi trovare gli strumenti più adatti alle tue necessità non è necessario applicarli tutti e anche qui hai visto adesso un po anche delle estremizzazioni su certi tipi di interventi che ho fatto nelle immagini sono delle scelte artistiche ma ripeto questa scelta e strumenti che hai per la gestione dei colori può servire anche per neutralizzare un'immagine o per raggiungere lo scopo opposto ottenere un'immagine proprio realistica documentale dal momento nel quale stavi fotografando tutto dipende da te gli strumenti sono solo strumenti siamo solo noi che decidiamo come utilizzarli se il video ti è piaciuto vai qui sotto e clicca sul pulsantino per mettere un like e iscriverti al canale e quindi sostenere quello che sto facendo e darmi l'opportunità di portare altri contenuti come questi per questo video è tutto ringrazio i sostenitori del canale grazie mille a voi che ogni mese mi sostenete tutti i patrons trovi qui sotto anche il link se vuoi diventare anche tu un sostenitore del mio canale e dal mio modo di continuare a realizzare contenuti come questi e noi ci vediamo al prossimo episodio ciao d'alessio